settima stazione gesù cade per la seconda volta ti adoriamo cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo dal libro del profeta isaia egli ha portato i nostri mali ha sopportato i nostri dolori e noi lo abbiamo considerato un battuto colpito da dio e umiliato lungo una via di morte gesù cade a terra affinché si aprano alla speranza coloro che sfiduciati e indeboliti soccombono alla tentazione gesù si rialza perché sacerdote fedele alla sua missione si rialza perché ognuno di noi risollevandosi dalle cadute resti fedele alla propria vocazione e prosegua con lui sulla via della vita signore che nella tua onnipotenza hai voluto vincere in male abbassandoti fino ad assumere su di te la nostra umanità sollevaci dal nostro peccato e donaci di essere in te liberi in eterno si per noi gesù la forza che ci sostiene nella tentazione la mano che ci rialza nella caduta il balsamo che lenisce le nostre piaghe padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male grazie a tutti